Abbiamo qui il dottor Luca Rossi, partner di Attic Ernei, a cui chiediamo la sua opinione sulle proposte di Etno di estendere le ITR al mondo internet e quali conseguenze lui si aspetta possa avere questa proposta nel caso abbia un successo. La proposta Etno credo che sia poi un'evoluzione o un momento di sintesi di una riflessione che oramai va avanti da parecchio tempo nell'ambito del mondo delle telecomunicazioni e che parte dalla domanda fondamentale della sostenibilità dell'attuale modello di internet a fronte della significativa modifica ed evoluzione dei profili di traffico su internet stessa. Il ragionamento che credo stia dietro la proposta di Etno è quello di una crescita del traffico esponenziale a fronte di un modello di business che ad oggi non prevede alcun incentivo economico né per chi sta a monte della rete, quindi gli over the top, né per chi sta a valle, cioè i clienti per usare la rete in maniera efficiente. Gli over the top perché non la pagano e i clienti perché sono in questo momento quasi tutti associati a delle tariffe flat. Questo provoca questa esplosione di volumi che si porta dietro dei capex necessari per l'adeguamento della rete, capex che a questo momento non sono in qualche momento finanziati perché ad essi non corrisponde un proporzionale aumento dei ricavi. Quindi dalle due l'una o si smette di investire nelle infrastrutture, non credo che questo sia fattibile, o si trova un modo per remunerare gli investimenti. Il modo per remunerare questi investimenti o i modi per remunerare questi investimenti sono probabilmente molteplici. Si passa dall'aumento o dalla modifica dei profili tariffari e di prezzo dei consumatori finali alla introduzione di standard di qualità differenziati per diverse tipologie di servizio. Una delle opzioni messe sul tavolo è quella di, come è stata denominata, introdurre una specie di interconnessione IP, modello voce. È chiaro che è una delle proposte sul tavolo, è una di quelle probabilmente più forti, la cui applicazione è tutt'altro che banale, perché immaginare di negoziare questi accordi con soggetti come Google e come Amazon è tutt'altro che banale, ma è probabilmente una all'interno di un mix di soluzioni che probabilmente riuscirà a risolvere il problema che oggi abbiamo sul tappeto, che è quella della sostenibilità del modello internet.